Ciao a tutte, allora come avete letto dal titolo del video, questo sarà un video tag riguardante il make up e in particolare sulle 10 cose che porto sempre con me durante un viaggio Allora, la prima cosa che porto sempre con me quando viaggio è una matita nera resistente all'acqua e da tanti anni utilizzo questa qui della Deborah, la 01 Waterproof Allora, che dire, questa è stupenda perché io praticamente la metto la mattina e la sera ce l'ho ancora indosso e diciamo sia al mare che quando faccio sport rimane sempre comunque un filo di matita nera all'interno dell'occhio Ultimamente però il mio ragazzo mi ha regalato questa qui della Yamamai e devo dire che ha una durata superiore rispetto a quella della Deborah è una di quelle matite che ha la mina interna ovviamente questa mina viene fatta fuoriuscire mano a mano ruotando la parte inferiore della matita poi abbiamo questo tappetto di plastica al quale devo ancora arrivare tutta la carta trasparente che ha un'altra mina inclinata in questo modo che è comodissima per fare la riga d'eyeliner e un'altra cosa ottima che ha questa matita è un temperino all'interno che vediamo se riesco ad aprire eccolo che permette ovviamente di temperare la mina adesso vi faccio vedere una volta temperata come viene bene appuntita allora eccomi qui come potete vedere ho temperato la mina e vi assicuro che è una cosa veramente veramente pratica anche perché se uno va un secondo in bagno prende e si deve truccare ha il temperino già a portata di mano senza bisogno comunque di cercarlo nella borsa eccetera la seconda cosa è un burro di cacao indipendentemente se sia inverno o estate perché comunque ho le labbra molto delicate io mi sono innamorata di questo qui della labello ha il gusto di ciliegia ha un sapore veramente buonissimo e anche un odore e come potete vedere è sul rosso però ovviamente non tinge le labbra assolutamente però lascia comunque quella patina leggermente lucida leggermente anche sul rosato insomma e questo è veramente ottimo allora la terza cosa che porto sempre è un mascara io utilizzo questo qui della Rimmel però sinceramente potrei utilizzare qualsiasi altro tipo di mascara purché colori veramente le ciglia mi spiego meglio allora io ho le ciglia molto lunghe, molto curve e molto folte quindi in teoria anche senza mascara starei ok diciamo l'unica cosa è che le mie ciglia diciamo nella parte più vicina all'occhio quindi nella parte iniziale tendono al biondo e quindi se io non ci vado a mettere un mascara sembra che le ho molto corte nel momento in cui lo vado a mettere invece mi fa un bellissimo effetto però non è grazie al mascara diciamo ma è semplicemente perché vado a colorare laddove le ciglia sono più chiare e quindi risalto leggermente il colore delle mie ciglia quindi io non vi so dire se questo mascara che uso è buono o meno perché magari voi avete le ciglia corte e questo mascara non vi fa alcun effetto oppure avete le ciglia poco folte e questo non ve le infoltisce io utilizzo questo e mi ci trovo bene e vi posso dire che comunque non le appesantisce minimamente però io ne metto pochissimo e mi serve ovviamente come ho detto già prima solamente per colorare quella parte più vicina all'occhio laddove comunque ho le ciglia sul biondo la quarta cosa è una piccola pallettina di ombretti allora io ho trovato questa qui da H&M e l'ho pagata mi sembra 3 euro o 4 euro non mi ricordo e ha 10 ombretti tutti shimmer che sono veramente stupendi adesso inclino e cadranno sicuramente gli applicatori però vi devo far vedere come sono gli ombretti e questa io la porto sempre perché comunque ci sono vari colori tutti i colori che mi piacciono e secondo me è più comodo portare una palletta di questo tipo che tutti i ombretti sfusi almeno io mi trovo meglio utilizzando una piccola pallettina e quindi questa è assolutamente essenziale la quinta cosa è una base per ombretto allora io come base utilizzo questo correttore della Debora che è il correttore liquido effetto giovinezza il numero 1 allora se sono in inverno questo qui lo utilizzo sia come base per ombretto sia come correttore mentre se sono in estate lo utilizzo solamente come base per ombretto perché comunque è un colore molto chiaro e in estate invece come correttore utilizzo questo qui che in realtà è il fondotinta che utilizzo l'inverno quindi faccio diciamo un po' di scambi sugli stessi prodotti che utilizzo in vario modo perché questo veramente è un fondotinta abbastanza coprente solamente è troppo chiaro da utilizzare per l'estate quindi l'estate lo utilizzo come correttore mentre questo qui è troppo chiaro per essere utilizzato come correttore l'estate e quindi lo utilizzo solamente come base per ombretto l'estate la sesta cosa è una matita per labbra e io utilizzo questa qui della Kiko che è la numero 204 eccola qui ed è praticamente questo colore adesso ve la apro, ve lo faccio vedere e io non sono una persona che utilizza rossetti li utilizzo veramente raramente e quindi quando devo mettermi qualcosa sulle labbra preferisco mettermi una bella matita e poi un lucidalabbra insomma quindi questa qui è una cosa che porto sempre la settima cosa è una cosa che vi ho mostrato anche in un precedente video ovvero questo insieme di illuminanti, terra, fard, eccetera che ho acquistato alla Essence e questa qui io me la porterò sia in estate per completare comunque il trucco perché ha veramente tante sfumature di colori e sia l'inverno in più per l'estate io porto sempre questa terra della Deborah che ovviamente da utilizzare l'inverno per la mia pelle è veramente troppo scura mentre per l'estate la utilizzo praticamente al posto del fondotinta insomma quindi quest'estate porterò queste due cose insieme l'ottava cosa che mi porto è una matita colorata allora per l'estate utilizzo questa qui della Prestige che è questo colore dorato adesso ve lo farò anche vedere sulla pelle eccolo qui, l'ho messo su questo dito e io penso che questo colore con la bronzatura stia veramente benissimo proprio è la morte sua insomma mentre per l'inverno ma volendo anche l'estate la potrei portare utilizzo questa matita della Bon Bon Malizia che però ragazzi funziona benissimo è stupenda adesso ve lo faccio vedere il colore ve lo faccio vedere qui guardate che cos'è questa matita adesso non so se si riesce bene a vedere però mi piace tantissimo perché è un azzurro che va anche un po' sull'argentato e per l'inverno è stupendo poi ovviamente lo posso mettere anche l'estate però vi sto facendo vedere proprio quelle che porto al 100% l'inverno e quelle che porto al 100% l'estate quindi questi due colori la penultima cosa che vi mostro è un lucidalabbra che io adoro è questo qui della L'Oreal Glam Shine e questo qui è il numero 84 allora questo è stupendo lo fanno penso da una decina d'anni adesso vi devo far vedere assolutamente com'è sperando che si vedano i colori allora è sul rosso però ha dei brillantini all'interno dei piccoli glitter che danno dei riflessi dorati adesso ve lo metto qui ma non so quanto si possa vedere vedete piego le altre se no magari vi confondete eccolo e questo è stupendo sulle labbra è veramente stupendo come vi ho detto prima io non utilizzo rossetti ma preferisco comunque questi lucidalabbra che sono abbastanza coprenti e questo è meraviglioso veramente ok allora siamo arrivati alla fine e vi devo mostrare l'ultima cosa allora l'ultima cosa che io porto sempre con me è questo gel detergente allora questo è un gel detergente contro l'acne diciamo e io utilizzo in giorno la mattina e la sera da qualche anno ho scoperto che funziona benissimo anche come struccante praticamente leva il 99% del trucco l'unica cosa che rimane è praticamente la linea all'interno dell'occhio che è quella comunque si deve levare piano piano con l'aiuto di un vero e proprio struccante però questo qui leva il fondotinta leva il mascara leva l'ombretto leva il rossetto qualsiasi tipo di make up lui lo leva perché è molto oleoso come gel e come tutti sanno l'olio comunque tende a sciogliere qualsiasi tipo di trucco se non ci credete adesso vi faccio vedere allora metto un po' di fondotinta sulla mano e lo stendo bene poi ovviamente aspetto un pochino perché deve un attimo asciugarsi non lo posso fare col fondotinta completamente bagnato ok l'ho messo non so quanto si possa vedere comunque sia ho messo il fondotinta sulla mano così vedete anche la coprenza ecco qui adesso apro l'acqua ce l'ho anche sul dito e ci passo sopra con l'acqua vi vedete anche la resistenza all'acqua di questo fondotinta allora il fondotinta come potete vedere è rimasto sia sul dito che sulla mano non so quanto si possa vedere però ci sta forse sul dito si vede di più ci sta ancora non si è elevato sta qui vedete si si vede perché la pelle ha un riflesso diverso rispetto alle dita vedete ci ho messo comunque tantissima acqua niente adesso ci vado a mettere questo una goccia adesso diventerà tutta marrone la cremina che ho messo guardate perché si sta sciogliendo il fondotinta vedete adesso ci metto l'acqua è andato via e questo qui io lo utilizzo anche per pulire i pennelli che utilizzo con il fondotinta liquido perché comunque va benissimo insomma e quindi nulla io vi saluto con le mani tutte zuppe e ci vediamo al prossimo video ciao ciao